Buongiorno e benvenuti alla seconda lezione a scuola di sonno. Nella prima lezione abbiamo visto come il sonno influenza molte nostre funzioni e anche se non abbiamo ancora una risposta definitiva su perché dormiamo, abbiamo scoperto che comunque il sonno è fondamentale per il corpo ma anche per la mente. Non dormire ha comunque delle importanti ripercussioni sulla nostra salute e a livello un po' di tutti gli organi perché come potete vedere anche da questa diapositiva non dormire significa avere delle alterazioni dal punto di vista cerebrale sia dal punto di vista cognitivo, sulla memoria ma soprattutto anche sul comportamento. Inoltre una carenza di sonno si è visto che è responsabile anche di una compromissione del sistema immunitario. In sostanza il sonno ha una funzione importantissima nel rafforzare le nostre difese immunitarie e questo può essere importante soprattutto proprio in questo periodo che ci troviamo a combattere l'infezione da coronavirus. Inoltre non dormire aumenta sicuramente il rischio di diabete di tipo 2 ma interferisce anche con l'apparato cardiocircolatorio perché aumentano tutte le patologie cardiocircolatorie dall'infarto alle aritmie, l'ipertensione e causa la deprivazione di sonno anche di dolori muscolari ma soprattutto riduce la crescita dei bambini perché come abbiamo detto durante la notte viene anche prodotto l'ormone della crescita che è fondamentale per lo sviluppo sia fisico che mentale dei bambini. Inoltre aumenta anche lo stato d'ansia e di depressione. E qui vedete una tabella riassuntiva, la fonte è molto autorevole perché parliamo della Oxford University e della Royal Society for Public Health che ci dice che queste sono solo alcune some of the main consequences cioè alcune delle principali conseguenze nel non soddisfare il nostro far bisogno di sonno come dire se dormiamo meno nel necessario abbiamo già visto sostanzialmente le conseguenze fisiche e mentali ma anche dal punto di vista comportamentale e nelle nostre prestazioni ci sono delle significative alterazioni abbiamo sonnolenza di giorno, aumentano gli incidenti stradali aumentano le cadute, solo per fare alcuni esempi ma abbiamo anche una ridotta concentrazione, una riduzione della memoria e praticamente tutte le nostre funzioni ne risentono in modo negativo. Le conseguenze, come dicevamo, della deprivazione di sonno una delle più evidenti è la sonnolenza di urna e a questo non si possono sottrarre neanche i potenti, come si dice se io non ho soddisfatto il mio far bisogno di sonno può capitare che di giorno mi addormenti nelle situazioni più disparate. l'eccessiva sonnolenza di urna che viene intesa come incapacità a rimanere svegli nelle ore di urna anche mentre noi svolgiamo le nostre attività sostanzialmente può essere in forma più o meno grave alcune situazioni noi possiamo avere una eccessiva sonnolenza solo in situazioni monotone, faccio un esempio come stando a guardare il televisore oppure se sono passeggero in macchina in altre circostanze quando l'eccessiva sonnolenza è moderata noi possiamo averla anche in situazioni che richiedono una certa attenzione come ad esempio mentre sto leggendo un libro ma in situazioni gravi può interrompere attività in corso come anche parlare o guidare un'automobile e badate bene che se voi vedete i dati epidemiologici in fondo alla diapositiva ben estimato che dal 5 al 28% della popolazione soffra di eccessiva sonnolenza di urna quindi sono dati direi molto significativi ovviamente quando parliamo di eccessiva sonnolenza di urna non dobbiamo pensare esclusivamente al fatto che ci addormentiamo come vediamo in questa foto completamente ma l'eccessiva sonnolenza si può manifestare anche con i cosiddetti micro slip che sono dei momenti di interruzione di contatto con l'ambiente che possono durare anche pochissimi secondi 3-5 secondi però se stiamo svolgendo un'attività che richiede un'attenzione costante come può essere ad esempio guidare capiamo bene che una frazione di secondo se ci troviamo ad esempio a dover affrontare una curva in strada se non siamo presenti potremmo anche andare fuori strada sostanzialmente poi l'eccessiva sonnolenza si manifesta anche con distrazione e disattenzione appunto siamo meno concentrati abbiamo anche una riduzione delle nostre capacità motorie delle nostre capacità di reazione inoltre è stato visto che c'è anche una errata valutazione del rischio cioè non siamo completamente consapevoli del rischio a cui andiamo incontro e spesso mettiamo in atto dei movimenti automatici di cui non ci rendiamo sostanzialmente conto noi ci accorgiamo dell'eccessiva sonnolenza diurna solo quando sentiamo parlare di incidenti gravi vedete sulla destra la foto dell'incidente che nel 2016 ha interessato un pullman che trasportava studenti dell'Erasmus in Spagna ebbene ha fatto 17 morti c'erano anche degli adolescenti italiani però poi ci dimentichiamo dell'importanza proprio di questo aspetto ebbene studi epidemiologici ci dicono che ben il 22% degli incidenti stradali gravi sono causati da eccessiva sonnolenza diurna e badate bene che di solito sono anche gli incidenti più gravi perché faccio un esempio anche una persona che un po' ha esagerato con l'alcol se si trova in una situazione di pericolo tenta almeno di fare delle manovre di correzione chi ha un colpo di sonno o anche un micro slip generalmente non mette in atto nessuna reazione di difesa e quindi le conseguenze generalmente di incidenti per colpo di sonno sono ancora più gravi è stato dimostrato inoltre che infatti raddoppia la mortalità degli incidenti cioè chi è affetto da colpo di sonno o comunque di eccessiva sonnolenza diurna ha la probabilità di avere un incidente mortale raddoppiato inoltre in basso vedete quelli che sono dati che sono emersi da uno studio effettuato dall'Università di Genoa nel 2014 ebbene gli incidenti sulle strade causate da eccessiva sonnolenza diurna sono stati ben 7.300 con 231 morti 12.180 feriti e con costi sociali piuttosto elevati come vedete ma l'eccessiva sonnolenza non si manifesta solo sulle strade ma crea anche molti problemi in ambiente lavorativo tant'è vero che è noto che raddoppia il numero di incidenti cioè i lavoratori che hanno che non soddisfano il proprio sonno e che quindi hanno poi di giorno un'eccessiva sonnolenza tentano avere un numero di incidenti doppi rispetto a chi dorme bene inoltre la sonnolenza diurna è il principale fattore che riduce la produttività e l'efficienza lavorativa perché si ripercuote anche sulla capacità di lavoro inoltre aumenta anche le assenze per motivi di salute e aumenta ovviamente indirettamente anche la spesa sanitaria perché come vedremo l'eccessiva sonnolenza diurna è anche causa di conseguenze mediche qui vedete rappresentati alcuni dei più gravi incidenti che sono avvenuti a livello mondiale e che ormai fanno parte del diciamo qualsiasi libro di medicina del sonno porta queste fotografie proprio perché le commissioni che hanno poi studiato le cause di questi incidenti hanno potuto verificare che essi erano dovuti a una condizione di scarsa attenzione concentrazione e di eccessiva sonnolenza dovuta a una carenza di sonno e qui vedete mi riferisco a Trima Island e Chernobyl che sono due sono stati due incidenti di centrali nucleari molto ma molto gravi e importanti anche nelle conseguenze l'esplosione dello Space Shuttle durante il decollo se qualcuno forse ricorda ci furono dei ritardi dovuti a situazioni meteorologiche chi era al controllo non ha potuto soddisfare il proprio bisogno di sonno quindi ha continuato a stare giorni e giorni alla stazione di controllo non ha dormito a sufficienza sono stati commessi degli errori gravi che la Commissione ha stabilito secondari proprio a questa deprivazione di sonno poi abbiamo anche l'incidente della Exxon Valdez che molti ricorderanno è una petroliera che si è incagliata sulle coste dell'Alaska e che ha fatto uno dei disastri marini più importanti anche lì che era quella notte al controllo di questa petroliera non aveva dormito a sufficienza e ha commesso degli errori clamorosi ma direi che il più grave di tutti questi incidenti è sicuramente quello che si è verificato in India l'incidente di Bhopal nel 1983 in cui uscirono dei gas nocivi da un'industria di pesticidi e questo determinò già al momento la morte di 6.000 persone ma poi questa situazione ha coinvolto ben 100 circa 150.000 persone anche negli anni successivi quindi come vedete le conseguenze proprie dell'incapacità di mantenere un'attenzione e un controllo della situazione possono essere piuttosto gravi ed importanti tant'è vero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito i disturbi del sonno una grave epidemia mondiale ormai tutte le società industrializzate soprattutto hanno dei ritmi tali in cui il sonno viene molto spesso limitato compresso e questo sta causando disturbi come dicevamo sia sulla salute sia sulle nostre capacità funzionali e anzi è stato stimato che il costo annuale dei disturbi del sonno sono nei paesi industrializzati pari all'1,5-2% del prodotto interno l'Orgo cioè non è una condizione che si ripercuote solo sulla nostra capacità funzionale ma anche dei costi sociali elevatissimi ora in Italia non abbiamo delle valutazioni dei costi della eccessiva sonnolenza ma abbiamo comunque un unico dato che ci deriva dall'intesa stato regione del 2016 in cui venivano verificati quelli che erano i costi dell'OSAS l'OSAS è un acronimo che sta per sindrome delle apnee ostruttive nel sonno cioè quelle persone che spesso russatori che durante la notte interrompono il respiro ebbene si è visto che i costi annuali per questa patologia piuttosto frequente ma assolutamente poco diagnosticata sono di circa 5 miliardi e 200 milioni ebbene se poi però andiamo a vedere nella stessa relazione quelle che sono diciamo i vari capitoli di spesa come potete vedere i costi sanitari diretti cioè quelli spesi per la diatrici e la terapia di questa patologia sono soltanto 316 milioni cioè 6% mentre tutto il resto sono per i costi sanitari da mancato riconoscimento e mancata prevenzione e per i costi non sanitari cioè gli incidenti e questa appunto è una delle patologie che si caratterizza più frequentemente di giorno proprio da essere accompagnata da un'eccessiva sonnolenza di urna quindi ripeto è molto eclatante quello che la differenza tra quello che spendiamo per fare una diagnosi o una terapia è quello che invece poi siamo costretti comunque a spendere perché non abbiamo gestito il problema inoltre nello stesso documento era sottolineato che non sono compresi i costi sociali esistenziali quali peggioramento della qualità della vita problemi coniugali divorzi vita sociale e di relazione quindi come vedete impatto importante sulla salute in parte importante sulle nostre capacità mentali e fisiche ma anche importanti costi sociali dal punto di vista economico quindi io credo che dopo questa carrellata potremmo senz'altro condividere l'opinione di Wendell Berry che è uno scrittore e poeta americano il quale sosteneva che la società moderna ha preso una delle soluzioni più perfette della natura il sonno e l'ha suddivisa in due problemi una sempre maggiore difficoltà a dormire la notte una conseguente difficoltà a rimanere svegli di giorno e abbiamo cercato ovviamente dei rimedi per poter mantenere le nostre prestazioni al meglio ma come dire spesso i rimedi sono peggiori del problema infatti si è fatto uso e abuso di farmaci sia per dormire sia per rimanere svegli durante il giorno l'uso di alcol l'uso di alcol soprattutto per favorire il sonno di giorno abbiamo abusato di sostanze attivanti quali può essere il caffè l'energy drink la coca cola che contiene anch'essa caffeina oppure anche il fumo perché il fumo è sicuramente una sostanza eccitante quindi come vedete abbiamo cercato di correggere delle nostre pessime abitudini quello di comprimere il sonno di non dare a noi stessi il nostro fabbisogno di sonno con dei rimedi che poi creano essi stessi altri problemi ancora tant'è vero che se andiamo a vedere come trattiamo l'insonnia queste sono state delle indagini effettuate in Italia si vede che la maggior parte dei pazienti insonni ad esempio si affida all'autoterapia cioè al fai-da-te sostanzialmente anzi c'è ancora una non considerazione eccessiva dell'insonnia come una patologia importante questo sia nella popolazione generale ma in parte anche nella classe medica perché ancora anche nei percorsi universitari si parla poco di quello che è il sonno e della sua importanza per la salute delle persone poi come vedete il 10-28% usano alcolici per dormire ora questo è tra l'altro un errore estremamente clamoroso perché è vero che se io bevo alcolici la sera tendo avere diciamo ad appisolarmi più facilmente ma è anche vero che intanto quello che ci dà l'alcol non è un sonno ma è una sedazione inoltre l'alcol tende a ridurre le due parti più importanti del sonno sia il sonno profondo sia la fase rem la fase rem è quella dei sogni dei movimenti rapidi degli occhi quindi abbiamo un sonno sicuramente di pessima qualità inoltre l'alcol ha un metabolismo rapido quindi ci abbandona durante la notte quindi poi ci risvegliamo inoltre l'alcol ha anche un effetto diuretico per cui chi beve troppo generalmente si deve alzare poi anche la notte per andare al bagno e quindi frammenta il sonno stesso ora si è visto sempre da queste indagini che il 22 29% usano sostanze off label che non sono diciamo indicate per i disturbi del sonno solo il 5 8% usa farmaci su prescrizione medica uno studio chiamato studio morfeo che è stato effettuato dall'associazione italiana medicina del sonno insieme alla medici di medicina generale si è visto che tra le persone che andavano diciamo dal medico per altre ragioni sono state intervistate ebbene il 64% riferivano comunque disturbi del sonno anche se non li condivideva col medico stesso sostanzialmente ma solo il 16% era in terapia quindi come dire c'è ancora una scarsa attenzione una scarsa educazione su quello che è il sonno e la sua funzione tra l'altro come dicevamo prima spesso ci sono stati dei rimedi non sempre appropriati come un uso assolutamente eccessivo e anche non controllato di farmaci per dormire soprattutto sono state usate quelle che noi conosciamo come benzo di alzepine e c'è da dire che le benzo di alzepine sono i farmaci in fascia C più venduti in Italia più di 500 milioni l'anno e questa è una tendenza che va ad incrementare perché qui vediamo la proiezione dal 2005 al 2013 ma anche negli anni successivi c'è stato un ulteriore incremento e come vedete nella grafico dell'Italia sono soprattutto le regioni del nord quelle a colore più scuro che fanno uso di questi farmaci in celestino sono diciamo in colore più chiaro quelle regioni che ne fanno meno uso oltre che un problema di quantità di sonno comunque sempre più spesso abbiamo un'alterazione dei nostri ritmi e in particolare del ritmo circadiano nel nostro cervello c'è un piccolo nucleo cosiddetto il nucleo soprachiasmatico che è il nostro orologio biologico che da sempre era sostanzialmente sincronizzato con i ritmi ambientali di luce e buio e il nostro orologio biologico è quello che poi ci dice quando dobbiamo dormire quando dobbiamo produrre determinati ormoni quando dobbiamo aumentare la nostra attività cardiaca oppure dobbiamo alimentarsi inoltre appunto questo orologio non solo regola il ritmo sonno-veglia ma come possiamo vedere in questa diapositiva tutti gli organi periferici hanno dei loro orologi interni che vengono sincronizzati con l'orologio con il nucleo soprachiasmatio che è l'orologio centrale un po' come un direttore d'orchestra che dirige le funzioni di tutti gli altri organi purtroppo varie situazioni hanno sempre più disallineato come si dice il nostro orologio biologico con quello che è il tempo sociale questo lo si vede soprattutto ad esempio nel cosiddetto jet lag da quando effettuiamo un volo transoceanio di cui superiamo molti fusi orari noi ad esempio abbiamo il nostro orologio biologico che è sincronizzato con la luce se siamo partiti ad esempio di giorno dal nostro paese arriviamo di notte in un'altra destinazione e questo l'orologio biologico non ha la capacità di riallinearsi immediatamente per cui molto spesso per alcuni giorni noi soffriamo di disturbi proprio di dovuti a questo disallineamento tra orologio interno e orologio ambientale una condizione che pure ha creato impatti importanti sul nostro orologio biologico è il dover svolgere ad esempio attività notturne lavori notturni che sono sicuramente una condizione diciamo ormai sociale necessaria ma badate bene tra l'altro ben stimato che in Europa circa il 22% della popolazione sia soggetta a turni o a lavori notturni e però lavorare la notte significa non rispettare il nostro ritmo interno il nostro ritmo interno ci dice che dobbiamo stare svelli di giorno e dormire la notte inoltre al nostro orologio interno abbiamo mandato anche dei messaggi errati perché come abbiamo detto precedentemente la luce ambientale è il principale risincronizzatore del nostro orologio ebbene voi come potete vedere sulla sinistra abbiamo una visione satellitare dell'Europa e vedete che la notte praticamente tutta l'Europa è estremamente illuminata l'illuminazione dice al nostro orologio biologico che non è il momento di dormire ma è il momento di stare svegli e stiamo sostanzialmente in una situazione di giorno e anche le nostre città ad esempio si vantano di essere diciamo delle città H24 in cui non si fa mai notte oppure anche le luci che spesso utilizziamo nei nostri appartamenti sono luci che tendono come dire a inviare messaggi errati al nostro orologio biologico il quale ha bisogno proprio invece dell'atternanza della luce e del buio per dirci quali sono i momenti migliori per poter dormire ma anche mangiare o fare altre attività questo soprattutto sta interessando sempre più le nuove generazioni diciamo i bambini gli adolescenti che fanno un utilizzo spesso eccessivo dei cosiddetti elettroniche devices che sono lo smartphone il tablet il computer questi sono tutti strumenti che interferiscono notevolmente con il nostro sonno perché da un lato sostanzialmente sono strumenti che ci attivano perché noi dobbiamo essere partecipi a quello che facciamo e dall'altra parte la luce che emettono questi sistemi è una luce cosiddetta la luce a onda blu che ha una frequenza ad onda di 450 495 nanometri e che ha proprio una funzione di inibire la produzione di melatonina quindi questo la melatonina come sapete è l'ormone che dà al nostro corpo e al nostro cervello l'informazione per dire che è ora di dormire quindi molto spesso giovani ragazzi o anche adolescenti fino a tarda notte sono collegati attraverso questi elettroni che devices e questo altro è il loro ritmo il loro ciclo circadiano sostanzialmente inoltre anche abitudini sociali come ad esempio la vita notturna sempre più soprattutto nel weekend noi manteniamo un ritmo durante la settimana poi durante il weekend magari facciamo molto tardi la notte quindi si viene a creare quello che tecnicamente si chiama jet lag sociale questo è un termine che è stato usato per la prima volta nel 2006 da un ricercatore tedesco Rennberg il quale appunto chiamò jet lag sociale la differenza tra quello che è il nostro ritmo del nostro orologio biologico e quello che sono le nostre abitudini sociali quindi molto spesso il venerdì o il sabato i ragazzi fanno molto tardi la notte quindi dormono poi di giorno e il loro ritmo viene completamente sfasato rispetto a quello che è il nostro ritmo interno questo non è senza conseguenze perché ad esempio molte volte noi sentiamo parlare di incidenti stradali a cosiddette stragi del sabato sera e si pensa generalmente esclusivamente al fatto che abbiano se siano deprivati di sonno o che abbiano fatto abuso di sostanze è vero anche che durante proprio il perché il nostro ritmo circadiano ci dice anche non solo quando dobbiamo andare a dormire ma dà anche le ritmi alla nostra temperatura corporea ora noi durante la notte abbiamo un abbassamento della nostra temperatura corporea e ci riduce la nostra capacità di vigilanza per cui stare in macchina ad esempio nel momento tra le 4 e le 6 di mattina che è il momento di temperatura più bassa del nostro corpo è il momento in cui noi siamo meno performanti siamo meno capaci di essere attenti a quello che facciamo più frequentemente si possono verificare situazioni di rischio inoltre si è visto che il jet lag sociale riduce anche le prestazioni scolastiche aumenta il rischio di dipendenze aumenta il sovrappeso ed obesità aumenta le patologie cardiocircolatorie in particolare l'ipertensione anche se è abbastanza frequente in popolazioni giovani sostanzialmente aumenta il rischio di diabete e di depressione quindi notevoli sono le conseguenze sia sulla salute e sulle nostre prestazioni proprio per per il fatto che non siamo più sincronizzati tra orologio nostro interno e orologio ambientale sulla questa è una raccomandazione diciamo della durata del sonno per tutta l'età che è stata sviluppata dalla National Sleep Foundation che è un'associazione americana non profit che cerca di fare appunto educazione al sonno e voi vedete che in età scolare ad esempio sia per i bambini sia per gli adolescenti la quantità di ore di sonno necessarie sono per i primi 9-11 ore e per gli adolescenti 8-10 ore ebbene questi valori sono al giorno d'oggi frequentemente non mantenuti tant'è vero che la nostra associazione Assirem insieme alla ASL Roma 4 e con il patrocinio dell'Unicef ha svolto un'indagine epidemiologica sui disturbi del sonno in età scolare in particolar modo abbiamo fatto uno screening su più di 800 bambini di terza elementare ebbene si è visto che già a questa età il 47% dorme meno del necessario il 10% ha disturbi a iniziare o a mantenere il sonno il 31% non vuole andare a dormire la sera cioè questo ci dice come anche le nuove generazioni abbiano un atteggiamento non favorevole rispetto al sonno vorrebbero non andare a dormire perché pensando che sia anche essi non hanno la consapevolezza dell'importanza del sonno per il loro sviluppo fisico e mentale poi il 26,1% ha difficoltà svegliarsi la mattina o si risveglia stanco perché ovviamente se noi non soddisfiamo il nostro fabbisogno di sonno cioè se non dormiamo le ore necessarie per la nostra età la mattina praticamente quando suona la sveglia siamo ancora in debito di sonno poi il 18% ha disturbi respiratori nel sonno non respira bene durante la notte russano o hanno appanee le appanee nel sonno sono importanti a tutta l'età ma ovviamente lo sono ancora di più nei giovani nei bambini perché i bambini che poi soffrono di questa patologia generalmente hanno un rallentato sviluppo sia fisico che mentale quindi sarebbe opportuno assolutamente porci una maggiore attenzione come dicevamo il sonno nei bambini adolescenti è ancora più importante che negli adulti è sempre importante ma è ancora di più nei bambini perché come sappiamo favorisce lo sviluppo psico-fisico e la maturazione cerebrale la maturazione cerebrale vuol dire che durante il sonno aumentano le nostre sinapsi cioè le nostre connessioni tra i vari neuroni cerebrali quindi anche favorisce lo sviluppo intellettivo e questo è soprattutto dovuto alla cosiddetta fase REM o fase del sogno che è molto quantitativamente maggiore appunto nei bambini proprio perché sono ancora in una fase di sviluppo mentale inoltre migliora le capacità di concentrazione e di attenzione migliora la memoria migliorare la memoria significa sono stati fatti degli studi che hanno dimostrato che se io apprendo delle nuove nozioni e poi faccio un buon sonno poi riesco più facilmente a ricordare quello che ho appreso così come per apprendere altre informazioni devo aver dormito bene prima questo perché perché durante il sonno come abbiamo detto c'è la cosiddetta consolidamento della memoria inoltre la memoria recente viene anche in qualche modo confrontata con le memorie già presenti nella memoria a lungo termine e questo permette di fare quello che tecnicamente si chiama un apprendimento continuo anche nel sonno noi continuiamo ad apprendere poi migliora anche il comportamento cioè abbiamo visto soprattutto negli adulti la prima conseguenza del carenza del non dormire a sufficienza è la sonnolenza diurna nei bambini molto spesso si verifica esattamente l'opposto nel senso che molto spesso questi bambini sono i cosiddetti bambini difficili facilmente irritabili eccitabili e molto spesso si fa una diagnosi la cosiddetta ADHD che sta per attention deficit per attività di sorde cioè bambini con scarsa attenzione che hanno dei comportamenti iperattivi molto spesso dietro questa diagnosi si nasconde un disturbo del sonno quindi non dobbiamo dimenticare questi aspetti perché molto spesso chi vede in primis questi comportamenti sono proprio i professori a scuola che vedono questi bambini che non hanno molta capacità di attenzione e che spesso sono invece irascibili o eccitabili dal punto di vista comportamentale il sonno è tra l'altro importante in questa età perché come sapete anche le patologie psichiatriche molto spesso si associano a disturbi del sonno nel senso che l'insonnia è molto spesso un sintomo iniziale cioè il primo sintomo di una patologia psichiatrica che si sta sviluppando in altre circostanze l'insonnia accompagna la malattia e ne compromette anche il recupero in altri casi addirittura l'insonnia rimane come sintomo anche dopo la guarigione della patologia psichiatria ma il fatto che persista l'insonnia è anche un indice di una possibile recidiva e l'importanza del sonno per le patologie psichiatriche non parlo solo di ansia e depressione ma soprattutto nella soprattutto nell'adolescenza quando molto spesso si sviluppano le cosiddette crisi psicotiche il sonno diventa un elemento assolutamente fondamentale è stato anzi dimostrato che molti circuiti cerebrali e molti neurotrasmettitori che sono interessati nella regolazione del sonno sono altrettanto interessati nello sviluppo di patologie psichiatriche ora con questo non voglio dire che dormire bene significherebbe sicuramente evitare tutte le patologie psichiatriche ma quello che emerge ormai in modo sempre più chiaro è che dormire bene quantomeno limita lo sviluppo di patologie psichiatriche e quando queste sono in corse dormire bene può indirizzare verso una prognosi più favorevoli consapevoli diciamo appunto dell'importanza del sonno ma purtroppo di un'educazione sociale che ancora è molto carente nel nostro paese la nostra associazione Assirem insieme al ministero dell'istruzione ha già fatto per due anni consecutivi un concorso nazionale sonno o sondesto in cui si sono indirizzati i bambini a fare degli elaborati con temi sul sonno il sonno dell'uomo il sonno degli animali devo dire che hanno avuto un grosso successo ci sono stati filmati ci sono stati quadri ci sono state poesie quest'anno purtroppo il periodo in cui dovevamo fare la premiazione della seconda edizione è coinciso col periodo del covid ma noi pensiamo di riprendere questo percorso non appena le scuole riprendono l'attività e anzi come associazione pensiamo anche di poter essere presenti nelle scuole proprio perché riteniamo che l'educazione sociale su questi temi e l'educazione sociale su uno stile di vita che comporti un maggior rispetto del sommo può essere di estrema importanza per la qualità di vita ma anche per la salute delle prossime generazioni non appena non appena non appena non appena di vita non appena per la salute Grazie a tutti